Sono solo altri due minuti per prendere quello che posso dai server. La stai mettendo in pericolo! Va bene così, Dante. Questo è un po' pane. Sequenza detonazione automatica. Arma meglio. Non promette bene. Non promette bene. Corazio, Virgil! Fatto. Sono quasi entrati. Andiamo, Dante. Aspetta. Cosa? È Kat. Sono in trappola nel mondo reale. No, non possiamo aiutarla. Andiamo. Non possiamo abbandonarla. Pensa, Dante. Noi siamo nel limbo, lei è nel mondo reale. Questo posto esploderà a minuti. Ha ragione. Non c'è nulla che possiamo fare. Andiamo. Vai avanti, ti seguirò. Dante! Dammi un secondo! Ok, ascoltami, non abbiamo molto tempo. Inginocchiati. Tieni le mani in alto. E non reagire. Ho paura. Che cosa mi faranno? Tutto quello che devi fare è cercare di resistere il più a lungo possibile. Tornerò a saldarmi. Non sparate! No! Cazzo! Stai, stai, stai! Coraggio, Dante. Non è ancora finita. Sì, stai, stai, stai.